La nostra azienda ha sempre avuto una vocazione all'export e negli ultimi anni abbiamo voluto mettere ancora più in evidenza l'azienda a livello internazionale. Abbiamo pensato ad Alibaba come ulteriore strumento per entrare in contatto con aziende e buyer in tutto il mondo. Gli obiettivi che ci siamo profissati sono aumentare la quota di esportazione e dare maggiore visibilità all'azienda e al brand a livello internazionale. Il supporto del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza è stato veramente fondamentale. Siamo stati infatti accompagnati passo passo nella creazione del catalogo, inserimento prodotti. Siamo stati molto contenti e sarebbe veramente difficile l'utilizzo di Alibaba in maniera professionale senza il supporto del Digital Innovation Hub.